Torrino calcio a 5, nuova stagione, parliamo un attimo col presidente Piero Cucunato della vecchia stagione, una grande stagione. Sì, un'ottima stagione con un secondo posto eccezionale a un punto dalla prima e poi una finale di Coppa. Quindi il trampolino di lancio verso la nuova stagione promette tante soddisfazioni. Ma noi abbiamo una squadra giovane, sicuramente competitiva ma giovane. Io sono convinto che faremo bene e faremo meglio dell'anno scorso. Però a dire di questo abbiamo un bel gruppo che in un periodo medio-lungo ci può dare grandi soddisfazioni. Il presidente guarda i risultati ma guarda anche alla cultura dello sport. Il Torrino calcio a 5 sotto questo punto di vista ha fatto e fa tanto. Direi di sì, noi questa sera abbiamo premiato due ragazzi con delle borse di studio, stiamo portando avanti un progetto sul bullismo e contro il razzismo. E direi che siamo sulla buona strada, non solo sport ma anche sociale. E sono convinto che questi giovani ci daranno grande soddisfazione anche nella vita. Grazie.